Il passato del nostro Simone, non mi resta intanto una famiglia che guardare in giù di più, un tempo e poi in città, è giusto? Grazie mille ragazzi! Proseguendo, andando avanti, siamo quasi giunte alla fine di questa meravigliosa manifestazione Ma prima, è giunto il momento di presentarvi la prossima coppia Non sono Goku e Vigetta Si chiamano Alessandro Schisano, Francesco Fiola, tratto da Dragon Ball Z Facciamogli un bel applauso! Salve ragazzi, benvenuti! Benvenuti! Dove venite? Napoli! E quanti anni avete? 24 30 Perfetto! Chi vi sta aiutando nell'allestiere giunto? Vediamo un po' della nostra famiglia! Che anche loro si sono vestiti a tema, non è però... Ci siamo? Ah, bisogna tenersi, mi sa... No? Ok, perfetto, fate... Devono aprire un attimo... Ebbè, l'antigianalità di tutto questo Facciamogli veramente un applauso, signor interno Io che veramente lo faccio usare un coltello Vedete? Gente che prende, preghi, costruisce tutto questo Arrighi mi fa sentire inutile Ma questo è un bastardo Però è sempre molto vero Se non ci siamo, cantiamo la canzone dell'incantore Cremie Io ve lo dico, ci siamo Dopo te la canto la stessa in privata Ok? Signori, se siamo in ritardo Alla regina canto la canzone dell'incantore Cremie Ecco, va bene Peccato Peccato Ecco, tutto questo in televisione si vedrà Sì Il pelle della funzione Siamo pronti, signori, vado Ragazzi, in bocca al lupo E' di subito Puglio che sta la canzione Ah Che��을 qué, Che, Che Viene Puglio Gas completes Il pecado so che il tuo cuore mi mette KAYOKEN BRING LA POTENTA KAYOKEN BRING LA POTENTA Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.